carissimi buona giornata a tutti quanti voi grazie a dio per questo nuovo giorno che ci viene donato leggiamo nel libro della genesi capitolo 14 i primi 12 versi in questo brano ci viene raccontato un episodio particolare della vita di lott lott abbiamo visto la volta scorsa si era stanziato nella zona di sodoma e questo in quanto abramo vedendo che i suoi pastori litigavano con i pastori di lott aveva detto al nipote guarda io non voglio queste cose voglio vivere in pace scegli tu dove ti vuoi stanziare io di conseguenza mi stanzerò altrove perché il rischio che stiamo correndo e che questo scontro che c'è tra i miei pastori e tuoi pastori diventi uno scontro personale tra me e te lott preso come abbiamo già detto dal desiderio di avere benessere ricchezza e vedendo che c'era una vallata molto fertile scelse proprio la zona di sodoma e di comorra lasciando allo zio le parti impervie del paese zone montuose dove certo pascolare non era qualcosa di facile ora però questa scelta lo porterà a trovarsi nei guai perché leggiamo in questi versi in quelli da 1 a 12 che alcuni re i nomi sono riportati e mossero guerra contro il re di sodoma di comorra e anche di altri e in questa battaglia che si venne a svolgere ad avere la peggio furono proprio il re di sodoma e il re di comorra al punto tale che e questo lo leggiamo al verso 11 i vincitori presero tutte le ricchezze di sodoma e gomorra i loro viveri e andandosene presero anche lotto con i suoi beni e questo in quanto lotto ormai abitava a sodoma le conseguenze delle nostre scelte sono sempre dietro l'angolo e la scelta di lotto che poteva sembrare a prima vista la scelta più saggia più intelligente si rivelò invece una trappola tremenda perché lotto si troverà prima ed è qui la circostanza ad essere rapito poi in seguito si troverà a sfiorare il giudizio di dio in quanto se il signore non avesse avuto compassione di lui il fuoco che cadde dal cielo e che distrusse sodoma e gomorra avrebbe anche distrutto lui e la sua famiglia cosa ci insegna questo che le scelte che noi facciamo devono essere delle scelte fatte in modo ponderato chiedendo sempre il consiglio da parte del signore ora ci sono delle linee guida che la parola di dio stabilisce che dovremmo sempre tenere presente nel momento in cui facciamo delle scelte le nostre scelte devono essere basati innanzitutto sull'onestà una scelta disonesta non è mai una scelta guidata da parte del signore e poi non possiamo di certo lamentarci se paghiamo le conseguenze di queste scelte poi c'è oltre all'onestà la necessità di agire in modo da non arrecare danno agli altri ed ecco perché il cristiano oltre a preoccuparsi di essere onesto si preoccupa anche delle conseguenze che le proprie scelte hanno per gli altri se io so in partenza che facendo una determinata cosa altri ne subiranno un'ingiusta conseguenza beh devo essere saggio e fermarmi anche quando questo significa perdere una buona occasione poi però al di là di quelli che sono i principi biblici e ce ne sono altri sia chiaro c'è una guida alla quale noi dobbiamo fare sempre riferimento che è la guida del signore dello spirito santo che noi possiamo ricevere solo ed esclusivamente sulle nostre ginocchia diceva bene qualcuno nel passato o quando affermava che il cristiano fa le sue scelte sulle sue ginocchia perché delle volte ciò che sembra essere apparentemente buono nella realtà può nascondere delle brutte sorprese anni fa mentre mi trovavo a fare la spesa dovevo comprare delle mele e fui attratto da una cassetta di mele sul quale tra l'altro c'era indicato un buon prezzo e nel guardare questa cassetta di mele e le mele che si erano in sulla parte superiore pensavo che stavo per fare un buon affare perché le mele avevano un buon aspetto e la cosa che feci grazie a dio fu quella poi di chiedere a chi mi vendeva quelle mele di farmi vedere anche quelle che stavano sotto e la sorpresa dire vero non tanto fu quella che sotto queste mele buone e ce n'erano altre che tanto buone non erano il che giustificava tra l'altro il buon prezzo che poi buono non era a cui venivano vendute questo semplice esempio che sarà un'esperienza che magari anche altri voi avete fatto ci fa capire l'importanza di non essere affrettati istintivi nelle scelte che facciamo ma di saper riflettere e di saper riflettere anche alla luce della guida del signore forse delle volte pensiamo che cercare il signore sia inutile nel fare certe scelte forse delle volte pensiamo che sia tempo perso andare sulle nostre ginocchia e pregare il signore forse delle volte non lo facciamo perché abbiamo proprio paura che la volontà di dio sia diversa dalla nostra e preferiamo non sapere la volontà di dio ma il signore ci dia saggezza perché quando noi andiamo contro la volontà di dio quando noi decidiamo di non consultare il signore ci troveremo a pagare delle brutte conseguenze per delle scelte fatte magari in modo avventato e come diceva una volta qualcuno in un proverbio umano prevenire è meglio cocurare evitare i problemi è meglio che doverli affrontare e superare e se è vero che ci sono delle circostanze avverse che si presentano indipendentemente da quello che noi scegliamo di fare è altrettanto vero che alcune ce le saremmo potute evitare se solo avessimo chiesto luce al signore se solo avessimo applicato i principi della parola di dio che sono rivelati e che sono alla portata di tutti cosa voglio dire alla conclusione di questa breve riflessione anche oggi ci troveremo a fare delle scelte ci sono scelte nelle quali onestamente non dobbiamo chiedere aiuto al signore se devo scegliere cosa mangiare a pranzo beh mi basterò sulla base di quello che ho nel mio portafogli e sulla base dei miei gusti ma forse ci saranno altre scelte più importanti meno semplici di queste nelle quali faremo bene a chiedere aiuto al signore e se possiamo prima di scegliere inginocchiamoci chiediamo al signore di illuminarci e magari la luce di dio ci permetterà di evitare delle tristi conseguenze per noi e per la nostra famiglia che la grazia del signore la sua pace la sua guida sia su con tutti quanti noi ancora oggi dio ci benedica insieme grazie Grazie per la visione!